Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora ragazzi, ho di notizia importante per la Roma, però prima di parlare di tutto ciò, vi saluto, vi chiedo come sempre di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale, in modo tale da rimanere sempre aggiornati a tutti i miei contenuti, ovviamente attivando la campanellina che trovate accanto al tasto iscriviti. Allora ragazzi, si parla già da un paio di giorni, se non anche 1-2 settimane, del possibile acquisto di Giorgino Wijnaldum, però in prestito dal Paris Saint-Germain per arrivare a Roma. Ci sono dei dettagli da decidere, in modo tale da far arrivare Giorgino Wijnaldum alla Roma. Ora ragazzi parleremo di cosa manca per far sì che il trasferimento possa avvenire e cosa ne penso io del giocatore. Allora ovviamente prima parliamo della notizia e di cosa manca per far sì che Giorgino Wijnaldum possa appunto arrivare a Roma. Allora ragazzi, intanto sarà un prestito con un diritto di riscatto che si trasformerebbe poi successivamente in obbligo se si verificheranno determinate condizioni. Ovviamente saranno in base alle presenze che Giorgino Wijnaldum farà sia in campionato che in Champions League, ma non si sanno quante saranno. Poi per quanto riguarda invece Gianluca Di Marzo, Gianluca Di Marzo dice che in giornata appunto di oggi ci sarà un incontro tra l'entourage del giocatore, appunto il giocatore stesso, con la società romana. Appunto in questi giorni però la Roma volerà in Israele, perché comunque avrà un amichevole col Tottenham se non mi sbaglio, il 30 luglio. Sempre lì la Francia, scusate il Paris Saint-Germain dovrà svolgere la finale di supercoppa contro il Nantes il 31 luglio. Qua dice appunto che ci sono delle notizie contrastanti, perché a Roma dicono che Wijnaldum arriverà tra domani e dopo domani, quindi tra il 29 e il 30 luglio. Però la cosa che per adesso frena questo trasferimento, questo prestito a Roma di Wijnaldum è il fatto che quando Giorgino Wijnaldum si è trasferito nel Paris Saint-Germain c'era una clausola che gli farebbe guadagnare 3 milioni, oltre ai 7 che già lui prende, perché lui ha uno stipendio di 7 milioni, oltre a questi 7 ne potrebbe prendere altri 3 se rimane fino al 31 luglio col Paris Saint-Germain. Cioè tra 3 giorni, per questo dicono, ci stanno dicendo in Francia che Giorgino Wijnaldum rimarrà fino al 31 luglio al Paris Saint-Germain e poi si potrà chiudere con la Roma. Infatti appunto per questo dice che in Francia si pensa che l'arrivo di Giorgino Wijnaldum possa venire tra lunedì e martedì della prossima settimana a Roma. Poi, per quanto riguarda lo stipendio che Wijnaldum prenderà alla Roma, è che Fredkin, abbassiamo la suoneria, è che Fredkin gli ha offerto, è ovviamente ragazzi più basso rispetto a quello che prende al Paris Saint-Germain e si parla di uno stipendio intorno ai 4-4 milioni e mezzo, però ancora si devono definire gli ultimi dettagli. Però ragazzi, secondo me, cioè, ripeto, secondo me la Roma sta facendo un bel calciomercato, si sta rinforzando bene, ha una buonissima rosa, perché ragazzi, se in questo momento noi pensiamo che comunque giochi la davanti con Abram, che l'anno scorso, ha fatto un ottimo campionato. Acquisti di bala. Zaniolo non so se resterà, però ripeto, se tu riesci a tenerti Zaniolo e hai preso di bala, hai fatto veramente un ottimo salto di qualità. A sinistra i Zaleski. In difesa poi comunque puoi godere gli spinazzola. Secondo me hai Smalling, che comunque ha la sua età, ma ormai ha un'ottima esperienza e ti può fare la differenza. Io magari punterei su un difensore. Però ripeto, poi al centrocampo giochi con Pellegrini. Hai Wijnaldum. Hai Veretou, hai Cristante comunque. Hai dei centrocampisti buoni. Quindi, ripeto, per me il prestito, perché inizialmente si parla di un prestito, di Wijnaldum per la Roma può frottare veramente tanto. Di un giorno Wijnaldum magari un po' quest'anno col Paris Saint-Germain si è messo un po' da parte. Però ragazzi, ci ricordiamo le partite con il Liverpool. Ci ricordiamo Wijnaldum del Liverpool. Ci ricordiamo della rimonta col Barcellona, in cui Wijnaldum ha fatto quel gol di testa e Wijnaldum è alto 1,320. Ragazzi, io, diciamo, quando guardo un centrocampista, sono i classici centrocampisti che a me piacciono, no? Alla barella, nel senso che... Avete presente quei centrocampisti bassini, ma nonostante questi sono belli stacciuti? Secondo me in un centrocampo c'è bisogno di giocatori, di un giocatore basso, cioè piccolino, agile, e uno magari un po' più fisico. E sappiamo tutti che la Roma ha centrocampo a Pellegrini. Gli affianchi uno come Wijnaldum e, secondo me, ragazzi, il centrocampo della Roma veramente quest'anno può essere veramente tanta roba. Ripeto, a me Wijnaldum mi è sempre piaciuto, a parte magari quest'anno che si è messo un po' da parte con il Presinger Man. Però, raga, quando giri con determinati giocatori al centrocampo, il Presinger Man ha determinati giocatori. È normale che magari ti vieni messo un po', diciamo, da parte. Però, ripeto, secondo me la Roma ha fatto un ottimo acquisto, bisognerà vedere come si adatterà al calcio italiano, perché sappiamo che è molto differente che in Francia. Però, secondo me, è veramente un ottimo acquisto. Ovviamente, ragazzi, vi chiedo anche a voi di farmi sapere, qui sotto con un commento, cosa ne pensate di questo acquisto e che voto date a questo acquisto. Secondo me è veramente un ottimo colpo. Come sempre, ragazzi, vi chiedo sempre di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale, di attivare la campanina, così mi mette sempre di noi su tutti i miei contenuti. E ci vediamo ad un prossimo video. Bella, ragazzi.